Da oggi in Corte di Cassazione è l'ultimo atto del processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Fiarindola che il 18 gennaio del 2017 fu travolto e distrutto da una valanga. Morirono 29 persone fra ospiti e dipendenti, 11 superstiti. Gli ermellini sono chiamati a decidere sui vari ricorsi presentati a seguito della sentenza dello scorso febbraio in Corte d'Appello all'Aquila quando a conferma delle condanne in primo grado per il sindaco di Fiarindola, Ilario Lacchetta, per i dirigenti della provincia di Pescara Paolo Dincecco e Mauro Di Blasio e per abuso edilizio il gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso e il tecnico Giuseppe Gatto si sono aggiunte le condanne a un anno e otto mesi per l'allora prefetto di Pescara Francesco Provolo per omissioni di atti d'ufficio e falso e per la mancata attivazione del centro di coordinamento soccorsi e il suo vice Leonardo Bianco per il solo reato di falso. Mattinata segnata dal lungo intervento dei giudici relatori che hanno dovuto illustrare i numerosi ricorsi, subito dopo la lunga relazione della Procura Generale e le parti civili. Nell'udienza di domani invece parola a difese per una sentenza che dovrebbe giungere tra domani sera e venerdì mattina. Si punta da una parte a reinserire il reato di disastro colposo dall'altra e in particolare per quanto riguarda la posizione dell'ex prefetto Provolo a far cadere i presupposti per le condanne di primo e secondo grado.